Controlli straordinari quelli disposti dal comando provinciale Carabinieri di Arezzo. In città sono state arrestate tre persone, due uomini di 50 e 53 anni sono finite in manette per evasione, dovevano trovarsi agli arresti domiciliari per rapina e tentata rapina per episodi avvenuti ad Arezzo e Montevarchi. Non trovandoli in casa, i Carabinieri li hanno rintracciati, erano tranquillamente a spasso per le vie cittadine. Fermato anche un giovane originario del Bangladesh che consegnava la droga direttamente a domicilio, diventando il punto di riferimento dei giovani di Cortona. A domicilio ora lo hanno però arrestato i Carabinieri. Residente ad Arezzo è stato sottoposto a perquisizione con l'ausilio delle unità cinofile di Firenze. Il ragazzo viveva con la madre in un appartamento della zona di Saione. All'interno dell'abitazione erano invenuti 70 grammi di marijuana, 77 di ashes, circa 3600 euro, probabile provento di spaccio. I Carabinieri sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini di Cortona che, trovati in possesso di stupefacenti, hanno attivamente collaborato per ricostruire i movimenti dello spacciatore. Nelle prossime ore il processo per direttissima. È stato condannato a tre anni e nove mesi il romeno di 48 anni, protagonista nell'autunno del 2015 di alcune violenze in famiglia. L'uomo, protagonista anche di atti persecutori, si trovava già agli arresti domiciliari ed è stato prelevato dai Carabinieri di Cortona.